Domani sarà inaugurato l'anno giudiziario 2015 del Tribunale Ecclesiastico Ragionale della Puglia. Alla cerimonia parteciperanno il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, l'Arcivescovo Francesco Cacucci, e il Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Monsignor Vincenzo Paglia. Saranno ufficializzati i dati sulle cause di annullamento dei matrimoni religiosi, dati che parlano di un calo delle cause pendenti 505 a fine 2013, 452 a fine 2014. In Puglia, dunque, si è registrata una sensibile flessione delle richieste di inunità matrimoniali. Secondo i giudici ecclesiastici, è segno della fiducia dei fedeli pugliesi nel Tribunale Ecclesiastico Ragionale e del valore che si attribuisce al sacramento del matrimonio. Dai dati regionali Istat relativi al 2012, ultimi disponibili pubblicati a giugno 2014, risulta che in Puglia sono state evase 4713 separazioni nei tribunali civili, mentre, entrando nel dettaglio delle 260 cause di annullità dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, sono 224 quelle concluse con esito positivo, 36 quelle respinte. Ovviamente sono le diocesi più grandi, a evidenziare il maggior numero di richieste affrontate dai giudici della Chiesa, in particolare 31 nella diocesi di Taranto, 21 in quella di Bari-Bitonto, 16 a Lecce, 14 a Foggia-Bovino, 15 a Brindisi-Ostuni, 15 nella diocesi Trani-Barletta-Biceglie, 9 in quella a Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, 6 ad Oria, 10 ad Andrea, 7 ad Altamura-Acquaviva-Grevina, 12 in quella di Otranto, 13 nella diocesi di Nardogallipoli, 6 nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, 8 in quella di San Severo, 9 in quella di Manfredonia-Vieste-San Giovanni-Rotondo, 6 a Lucera-Troia, 15 nella diocesi di Conversano-Monopoli, 5 a Cerignola-Ascoli-Satriano, 14 in quella di Castellaneta. Il maggior numero di richieste di nullità, 23, arriva da coppie con due anni di convivenza, seguite da 15 casi con unione alle spalle di 3 anni, 14 con 7 anni di matrimonio. In 12 casi la convivenza è durata un anno e mezzo.